Quando peraltro modo è l'acqua Alzar vorlemmo, posto che in piccola cosa e a termine fare si possa, in questo modo da fare sarà. Facci sì una fontana ad altezza di due piei, o quello che parese di fare, la quale nel suo posamento perbassa una chiusa va a vetà di diametro un piede o circa. È simile alla sommità d'essa sia, e sopra alla superficiale vacuità, a guisa di fonte fatta, un bacile, dal quale l'entrata di una canna che infino al fondo della vacuità, della bassa, vadi. E due altre si partin dal sommo d'essa vacuità. È bassa, è al sommo della vacuità di sopra, e fondo del bacino si rinfreschi. E dal fondo d'essa superficial vacuità, un altro cannone che sopra al mezzo del bacile, mezzo piede avanzando, piccolissimo foro dove l'uscito dell'acqua sia. Di poi la fonte fatta per piccolo canale e foro che nel bacin serà, la vacuità sotto d'esso d'acqua pieno sia. Di poi, turato il foro dove è impita l'aria, e il dito sopra la canna che dal bacil si parte, in fondo va serrata, tenendo il bacile d'acqua è da empire. E il dito della canna levando è l'acqua, per l'estremità della canna di mezzo o uscendo. In alto si eleverà tanto che l'acqua della somma vacuità consumata sia. E nel fondo d'essa fonte, un canale per lo quale l'acqua accolta, evacuarsi possa, siccome la presente figura manifesta. la canna di mezzo Grazie a tutti.